La Fender per il 2014 nella serie Select propone questi nuovi modelli. La prima ha questo bellissimo top fiammato e la tastiera channel bound, ovvero praticamente la tastiera viene incastrata dentro al manico. Questo permette un grande comfort mentre si tiene la tastiera e si suona. Con configurazione HSS e tastiera in acero. L'altra Vitale invece ha un top in acero Kilt, sempre con la tastiera channel bound, questa volta con la tastiera in panissandro. Quindi si rinnova sempre nella sua produzione top made in USA.